Domenica 10 settembre il conducente di una Jeep Renegade di colore grigio si è immesso sulla tangenziale di Napoli percorrendo in retromarcia lo svincolo di uscita di Secondigliano e una volta giunto sulla carreggiata ha proseguito la circolazione in retromarcia in direzione Pozzuoli, servendosi della prima corsia, crociando così pericolosamente altri veicoli che circolavano regolarmente sulla carreggiata oltre quelli che si mettevano dagli svincoli Giunto poi poco prima della galleria Capodimonte il conducente avrebbe arrestato momentaneamente la marcia del veicolo e una volta sceso dall'abitacolo spingendo la vettura a mano avrebbe invertito la posizione ponendosi sul giusto senso di marcia. Tuttavia ripresa nuovamente la circolazione in retromarcia, questa volta a contromano verso l'immissione di Corso Malta, si sarebbe dovuto fermare nei depressi per avaria del veicolo. Mentre giungeva sul posto un'unità di soccorso della tangenziale di Napoli alla quale era stata fatta richiesta di soccorso stradale, il conducente è ripartito con la sua auto smarrendo le proprie tracce. Così gli investigatori della sottosezione polizia stradale di fuorigrotta acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della tangenziale sono riuscite a ricostruire l'intera vicenda e ad individuare la targa di immatricolazione della Jeep Renegade che risultata essere stata noleggiata da un cittadino napoletano 31enne che l'avrebbe a sua volta proprio nella mattinata del 10 settembre affidata di fatto ad un cittadino georgiano di 43 anni. L'uomo invitato presso gli uffici della polizia stradale ha riferito che il motivo della circolazione in retromarcia era ad attribuirsi ad un'avaria del veicolo dotato di cambio automatico che in tali circostanze consente soltanto quell'unica modalità di circolazione e che solo per non pagare l'intervento di un carroattrezzi avrebbe tentato quella folle impresa cercando di uscire dalla sede autostradale. Attualmente il 43enne con precedenti per reati contro il patrimonio è destinata a un obbligo di soggiorno nel comune di Napoli emisso dal tribunale di Salerno ed è stato sanzionato per due distinte condotte di circolazione in retromarcia in ambito autostradale.